queste sono le nostre patatine fritte passiamo alla frittura per friggere olio di semi d'arachidi lo mettiamo sul fuoco facciamo scaldare 130 140 gradi la prima cottura bella delicata vi raccomando ogni tanto lo giriamo così cuoce da tutte le parti 10 minuti passati guardate che bello ora la seconda cottura lo facciamo diventare bello croccante l'olio lo passiamo a 200 gradi friggiamo che spettacolo ragazzi sono pronti questi sono buoni così un po di sale e senti che vi mangiate queste sono le nostre patatine fritte